Signori, in questo clima estivo, che cosa c'è di meglio di una partita a un gioco di calcio? Ma quale gioco di calcio? Ispro Evolution, che pure Midna mi ha chiesto Ma ce la facciamo una partita a Ispro Evolution? E dai, che ha avuto una Playstation, ci ha sempre giocato Ragazzi, io direi di fare un Italia contro Germania Adesso vedrai perché Germania Perché Germania? Fai Germania, io Italia Vediamo un po' le tue formazioni, mi leggi per favore il numero 5? Stro... Mi piaceva sempre ridere perché poi la telecronica diceva Stro... Ma tu invece fai vedere Io, Piruzzi, Canavero, Nista, Moldani, Panosci, Di Biagio, Albertenni, Di Francesco, Dino Blagio, Delperio e Bierre Ma li puoi cambiare, vediamo se ce ne sono altri Cambiamoli, sì, vediamo perché... Clicca su uno Ah, c'è anche Nigro Nigro, Pesoto, Farerra, Ferrara Ah, Cante Chi è Cante? Conte Ah, Conte! Antonio Cante Fuzzer, anziché Fuzzer Delavio Di Livio Tatti No, Tatti glielo devi mettere Roberto Blagio In Soghi Chiezal Chi è Chiezal? Chiezal Ah! Enrico, attenzione, non Federico Buffonne Midrano ha già messo le mani avanti Non so giocare, ragazza Non so come è fatta la palla Ma è vero Si tira Ragazzi, ricordiamoci sempre che già è una donna che commette gameplay, siamo anni avanti Allora, cominciamo a fare i passaggi, perché come vedete io sono bravissima e tira da qua E tira E da qua, perché è stato Biroff Biroff, come si chiama però? Botte? C'è Botte? Chi è Botte? Botte, non mi ricordo chi dovrebbe essere Botte Qualcuno che è aggressivo Però Biroff, scritto così Senti, ma faccio la telecronica? Eh, sì Dai, Roberto Blagio, attenzione, Roberto Blagio, non c'entra una mazza con Blagio vero Attenzione, Vierry, potrebbe tirare No, no, no Traversa, traversa Sbagliato, ho tirato Devo fare a David Grun Nel frattempo devi dire, non ho sbagliato Scusa Attenzione, Tatti, Tatti per Vierry Che però viene intercettato Stronses, Stronses Riceve la palla, i suoi capelli squadrati sono un simbolo ormai Per la sua generazione Canavero, Canavero Che però, attenzione, si fa anticipare dall'eccezionale Stronses No, ma dai, ma che cavolo fai? Panoci Stronses, no, Panoci ha fatto il suo lavoro Stronses ha fatto un passaggio di merda Attenzione, perché Delperio No, ok, sono rimasti incastrati Delperio, dalle scarpette rosse Stava anticipando Nuville Attenzione, Bierhoff, però scritto come la birra Si fa il suggerimento per Roberto Blagio Roberto Blagio, passaggio illuminante Attenzione Per Delperio Non era fallo Non era fallo Heinrich Bierhoff, ancora una volta fermato Ricordiamo che Bierhoff è forte solo di testa E al festival, all'Octoberfest Visto che si chiama Bierhoff Come mai ancora nemmeno un gol? Roberto Blagio, il grosso al centro È anticipato Colpo di tacco in aria Sei veramente spregiudicato Un'altra colpa di tacco Attenzione Eh, lo so, lo so Poi te le insegni Poi te le insegno, va bene Attenzione, Stronses Finora l'uomo partita, Stronses Eh, lo so, Stronses Ricordiamo che io l'ho fatto scegliere la Germania Solo per vedere Stronses Esatto Solo per questo E allora, la Germania è forte Mi ha detto, prenditi la Germania, prendi la Germania Viene fermato da Nista Nista, attenzione Nista, prosegue verso il fondo Una prateria davanti a sé Può passarla al centro Niente da fare Mi sei incassato il dito Ancora, Stronses Attenzione Del periodo Ma comunque era bello Questo gioco per PS1 Ma anche il 2 Era tanto giocato Vabbè, da qui in poi, insomma Fino poi a Poi che è successo L'epoca moderna Insomma, è successo Come si corre? Con R1 Ah, io non ho mai corso finora Non ti sei voluta stancare No Non c'era la fatica tanto Non c'era la stanza Cioè, oddio E allora perché uno deve premere R1? Perché non è di default Cioè, non capisco questa cosa che devo correre Non è tipo della mamma Ma di chi è figlio questo? Niente Attenzione Roberto Blaggio Roberto Blaggio Potrebbe tirare Uh, altra attraversa Cioè, vabbè, vabbè, ma chi è FIFA Altra attraversa Per Roberto Blaggio stavolta È peggio di FIFA 22 Attenzione Ancora Jay Ramis Che cavolo ha fatto? Niente Ha fatto il passaggio alto Senza senso Ah, attenzione Nista Grande Nista Roberto Blaggio Finora il migliore in campo Insieme a Stronzoz Lui e Stronzoz Si contendono Il titolo di MVP Comunque l'arbitro non c'è L'arbitro? No, no Non esiste È morto Canavero Un pervenuto No Moldani 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 Il capitano del Milan Attenzione Temporeggia Capitano anche della Nazionale Per Diviaggio No, no Diviaggio Per Bierri Bierri Passaggio filtrante Per Delperio Che non si vede lustro Ho preso la palla E non me ne sono accorta Hanrish Hanrish Per Botte No, ma me lo lasciate stare Biroff Botte chi sarebbe? Botte Perché sarebbe Botte Ma non mi ricordo uno Che si chiama Oh, non mi sta soffrendo Attenzione Roberto Blaggio Delperio Si diranno come Raiden Non conosci Botte No, mi sto ricordando Magari in realtà sì Attenzione Il passaggio filtrante Il tiro Go kick Significa rimessa Rimessa Dal fondo Attenzione Bierri Ci fa vedere il replay Molto bello il suo tiro Di interno destro Tra l'altro ho notato Anche la somiglianza In faccia In faccia sono uguali Sono io? Sono Can E che devo fare? Can che in realtà Si chiama K-A-H-N Hanno messo una N Al posto di una H Ah, vabbè Però così è facile A giri tutti i diritti Anche Delperio Hanno messo una I Al posto del Cioè hanno anagrammato Le lettere Attenzione Per Panocci Panocci Poclo stand al centro Ottimo anticipo Di Babel Corner kick Angolo Ma notare Il capello blando Di Delperio Il cross al centro Niente da fare Un po' blando Anche il cross Come il suo capello Attenzione Bierri Bierri Che non si è visto Molto A parte una traversa Dai Sono stronzo Non fa più Né Amman Amman Non vai per me Sono tutti stronzo Ok Sono stronzo Zino Unse Vai stronzo Stronzo È lui È lui Vai 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 Stronzo Però non c'è nessuno Dai Il tacco è chi Dai sbrigati Madonna Sono scarsa Roberto Blagio Eh vabbè Dai Ha fatto finta Ha fatto finta Ha fatto finta Ma quando mai Albertenni Non l'ho toccato Nemmeno Oh Roberto Blagio Break per lui Ma smettila Blagio Può cross al centro Niente da fare Però non sta giocando Benissimo l'Italia Ma sicuramente È meglio della Germania Che fa qualche Tacco a tutto spiano Biroff si fa Ma Biroff È lento Come lo schifo Sì vabbè Canavero Tatti Tatti Filtrate Prende il perio Vero Dai niente Il perio Non tocca una palla Ora lo sostituisco Lo metto avanti Roberto Blagio È scarso del perio Magari fosse del Piero Però non è Tatti 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 Francosco Tatti Di viaggio Allora vai Biroff 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 Si chiama Olicer Biroff Ma comunque Biroff è veramente Il nome Francosco Tatti Comunque Tatti È il cognome di Totti Attenzione Ah sì Totti è il nome È certo Canavero 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 Fablo Canavero Attenzione Niente Diciamo che Così Come è andata Perde tempo Fammellina Come è andata 0-0 Come è andata Facciamo entrare in soghi Ci permetti Perio perché non si è comportato bene E io Allora io ti consiglio Di sostituire No stronzolo Niente Non sostituire nessuno Va Delperio Delperio Attenzione Non c'è stata la scena Che è uscito Sì va bene Adesso Adesso Quindi come facciamo a sapere Che stavano No no È il prossimo Al prossimo interruzione Anche se A me È mia È mia Hai visto che non abbiamo fatto Neanche una dimessa laterale Ci fai caso Solo una punizione C'è stata E un goal kick E basta È vero Sì Attenzione Attenzione Nista Per tatti Tatti Che cosa Ho deselezionato Attenzione Nista Ma cosa fai Deselezioni Passo di passaggi sbagliati 100% Sì Esatto Ho notato questa cosa Soprattutto da parte mia C'era questa cosa Bisogna essere molto bravi E precisi Nei passaggi Però io Ecco Mi sono abituato a FIFA Però io non Non li faccio Roberto Ma voi Ma perché fa Perché Roberto Blaggio Io l'avevo passata due ore fa Giuri Non funziona Ottimo Non preme Non preme Comunque Però c'è da dire che ho preso due trasverse Attenzione Cos'era questo velo Allora ti posso dire una cosa Non mi preme Il controller Il tiro di Roberto Blaggio E chi è Chi era Roberto Blaggio di Blaggio Era Pierre Oh vedi In Insoghi Out Del periodo Si può essere più scarsi di così Non è sì Allora Ora diranno Perché non portate FIFA 98 FIFA 98 Vabbè lo portiamo Va bene Con questa abilità Stessa abilità ragazzi Posso promettere Più di così Sì no perché troppo Tatti 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 Pepe all'avventura Grande Tatti Niente da fare però Io me la sto facendo scivolando scivolando Me lo fai fare un gol No No Mutani Però troppo indietro Tatti 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 Ma quello dove sei andato Scusami Il mio Panocci Uh il tiro pericoloso di Panocci Ma scusa come fai a non segnare con me Che sono una pippa in mane Infatti io sto Forse se no Ma dai ma che fai Ma che dai stronz quello è stato Ragazzi ma veramente è la fiera della scarsezza Sì 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 Ma anche dal mio lato Non è che stia giocando bene Attenzione Tatti Il tiro di Tatti Vabbè ma tu stai facendo la Comunque Cann Miglior portiere di sempre Miglior pippa stai dicendo Sì sì Oliviero Cann E tra l'altro ha giocato fino a qualche anno Cann Attenzione Insoghi Insoghi Il neo è entrato in campo Subito si fa levare palla Come solo Ti ho fatto 50 scivolate io Ti ho zoppati tutti Eh c***o Però poi non la prendo Cioè ti ne zoppo giusto per il gusto di farti male Ah Questo è proprio lo falso per voi Finalmente Vai Finalmente cosa È tipo un gol per te no? Esatto Sì Attenzione Vai Finalmente qualcuno è morto Comunque secondo me non fa e non preme Non vorrei fare la pippa della situazione Non è uscita attenzione Secondo me sì ma i giochi all'epoca non erano così precisi E non c'erano i guardalini all'epoca No non esistevano Non li avevano ancora inventati Attenzione Panocci Panocci No 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 questo è gol Euro goal di panocci Euro goal di panocci Attenzione 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 Roberto Blagio Roberto Blagio Roberto Blagio Madonna mia No vabbè Roberto Blagio Non è che mi puoi rompere in sogno Ah stavolta ti becchi il cartellino niente E quello finto Ti becchi qualcosa Stanno cercando per finta Vai Ma va a vincere Attenzione No 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 La nostra Italia con quelle Contro la geramnia Però ragazzi ci siamo divertiti tantissimo E come sempre suggeriteci altri giochi da portare Replayer Inside Perché ci ricorda cose bellissime La nostra adolescenza La nostra infanzia La nostra fanciullezza Eccetera eccetera E' un po' come quando andate alla nonna Che è anziana E vi racconta cose di quando era piccola Non mi frega un cazzo Però lei si diverte Ecco questi siamo noi Che vi cerchiamo E voi che ci guardate giocare Ma voi in realtà Siamo i nonni Ciao Ciao